L'ultima fase chat, siamo in viaggio, siamo partiti poco fa da Senise E' una di quelle cose che un resti non finisse mai, un resti ne parlavamo adesso Ci vorrebbe un chat ogni due mesi per tutta la vita Per vivere, per continuare a godersi musica, musicisti e questo ambiente Non ho fatto i video, rifacelo Manu, com'è? Entra! Il diario di bordo. Avevo il pianoforte in camera. Guardate che meraviglia quando ce ne vado a affacciare qua. Il risultato è sempre straordinario. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è armonia, c'è impegno. I soci riusciamo sempre a stupirci. A stupirci. A stupirci. Speriamo di poter continuare a lungo per l'antiazza. Cosa? Un applauso per il gente! Siamo tornati! C'era tutto... No, bro. C'era tutto del videoblog questo. Ma che c***o che c***o che pisse. L'impresa eccezionale è la piretta. E' essere io ormai. Cosa? Un applauso per il gente! Cosa? Un applauso per il gente! Cosa? Un applauso per il gente! Cosa non si può fare! Cosa buoni! Cosa? Cosa? Un applauso per ilamm PHP! Cosa? Un applauso per ilinating feel. Ottimista è di sinistra Non abbiamo fatto niente Ma sono rimasto solo Solo il tuo peggiceo Vale Coro, paro, coro, paro Coro, paro Ancora poco ho incontrato Uno che sarà perduto Non vedo che nel centro di Bologna Non si perde neanche un bambino Non si gira, Roberto, non si gira Mi guarda con la faccia postanotta Che ti dice sono di Berlino Coro, paro, paro, paro Coro, paro, paro, paro Il mio giro è stato di conti Però pot nicio è morto Non canta No canta No canta No canta No canta No canta Non canta Grazie a tutti